Ciao, bentornato al programma tv di oggi con notizie come, Stefano De Martino e la confessione inaspettata sul matrimonio, ecco cosa ha dichiarato, i dettagli della vicenda. Una carriera spettacolare quella che è riuscita a raggiungere un personaggio come lui, reduce da una serie di successi dal punto di vista della conduzione, stiamo parlando di Stefano De Martino. Oggi è al timone del famoso programma su Rai 2 Bar Stella che sta ottenendo un successo clamoroso, a cui si sono aggiunti anche altri come stasera tutto è possibile made in su dei daytime di amici. Il conduttore ed ex ballerino ha gelato lo studio con una confessione sul matrimonio. Sin da ragazzino, Stefano ha maturato la sua grande passione per il mondo della danza tanto da cominciare a soli 10 anni. Successivamente, visto il talento, nel 2007 riesce ad aggiudicarsi una borsa di studio a New York, presso il Broadway Dance Center, cui approfondisce l'opportunità di entrare in contatto con la danza moderna e contemporanea. A regalare la notorietà al giovane è il talent Amici con il quale riesce ad aggiudicarsi l'il contratto on il Complexions Contemporary Ballet che gli permette di prendere parte a un tour che lo porta in Nuova Zelanda, Australia e Hawaii. Dopo essere passato come ballerino professionista, De Martino comincia a farsi conoscere come conduttore del famoso daytime di Amici, continuando con Selfie le cose cambiano, Pequenos Gigantes, nel 2018 come inviato dell'isola dei famosi a Made in Sud e stasera tutto è possibile. In molti si sono sempre chiesti come mai Stefano avesse abbandonato la danza per dedicarsi solo al mondo della conduzione. Il ragazzo ha svelato, non ero straordinario e non avevo la grazia di un equal. Avevo la professionalità e tenevo tra le dita il mestiere, ma siamo onesti e diciamo la verità, se avessi smesso all'improvviso non se ne sarebbe accorto nessuno. Parentesi quadra aperta parentesi quadra chiusa. Nel mio percorso c'è stato sacrificio, desiderio di arrivare a ogni costo e una fame di riuscita che rappresentava un riscatto sociale. Di recente, nel suo nuovo programma Bar Stella ha fatto una confessione circa il matrimonio. La confessione di Stefano De Martino che gela lo studio. Nella serata del 30 novembre 2022 del suo programma Bar Stella, Stefano De Martino ha avuto moltissimi ospiti tra cui Giovanni Esposito, Nathalie Ghetta e il divertente e comico Herbert Ballerina ma anche la sondaggista Alessandra Ghisleri, con il quale l'uomo ha commentato la vicenda sui sussidi rivolto ai giovani che intendono sposarsi. Interagendo con il professionista, De Martino ha detto la sua facendo una confessione che lascia tutti senza parole, ricordano le sue nozze avvenute nel 2013 con la showgirl argentina Belen Rodriguez, io mi sono sposato da giovane, forse lo ero anche troppo. Un momento curioso vissuto nel programma di Stefano De Martino. La sondaggista ha spiegato che alcune nozze sono saltate o slittate per via del Covid. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.